Dopo un periodo di oblio erano ritornati in auge con lo spazio della droga controllando buona parte del mercato in provincia di Taranto. Trenta le persone arrestate ieri, la maggior parte delle quali appartenenti al clan putignano di Palagiano, guidato da Fiore Liberato Putignano di Trenturani e suo fratello Giovanni Carmelo di Trentotto, figli di Carmelo Putignano, capo indiscusso dell'organizzazione e attualmente detenuto dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta Artemide. Del gruppo avevano fatto parte in passato Cosimo Orlando, una delle vittime della strage di Palagiano dello scorso anno, nella quale persero la vita la compagna Maria Fornari e il figlio letto di quest'ultima, Domenico Petruzzelli, di tre anni e il suo presunto mandante del delitto, Nino di Napoli. E proprio alla memoria del piccolo Domenico ieri è stata intitolata un'aula della scuola dell'infanzia Disney di Palagiano, proprio quella che il bambino avrebbe dovuto cominciare a frequentare di lì a poco. Un'iniziativa che rientra nell'ambito della giornata della memoria e dell'impegno, ricordo delle vittime della mafia, terminata con un corteo per le strade del paese al quale hanno preso parte centinaia di studenti.